La di medicina tutta tarantina che dovrebbe prendere le mosse già a partire dal prossimo anno accademico, virus permettendo, non dovrà accontentarsi di una sede qualsiasi ma potrà già essere posizionata nell'ex filiale di Taranto della Banca d'Italia. Grazie al via libera da parte della giunta regionale l'immobile sarà riqualificato e acquisito al fine di rendere uno storico palazzo la sede più idonea. È stato possibile grazie alla rimodulazione di interventi già previsti a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Il Governo centrale ha consentito di liberare 7 milioni e 835 mila euro. Diventa realtà il progetto condiviso dall'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Mino Borracino, e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il senatore Mario Turco, entrambi presenti al CIS. Il contratto istituzionale di sviluppo. Da una parte una sede di Ateneo con i più avanzati standard qualitativi, dall'altra un palazzo prestigioso e storico che avrà nuova vita e potrà diventare perché no fulcro attrattivo di molte importanti attività, commenta soddisfatto l'assessore Borracino. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.